Carne scadute dalla provenienza sconosciuta blitz dei carabinieri del NAS di Padova a Campo d'Arseg in una pizzeria rosticceria. I militari, dopo un'ispezione, hanno sequestrato 70 kg di alimenti di origine animale congelati, privi di qualsiasi etichetta di tracciabilità e riportanti scadenze superate. All'interno della struttura i locali erano sporchi, in condizioni giannico-sanitarie precarie. Per questo, per il gestore, è scattata una multa di 2.500 euro, una segnalazione all'autorità sanitaria locale.